ciao a tutti fruffallini e bellini e ecco la seconda parte sono arrivato a casa ieri mattina stavo facendo video e ho detto che non lo piacevo vedere adesso vi faccio vedere le cose che abbiamo preso per svuotare la stessa io l'ho detto un po' più e velocemente prima la macchina adesso vi faccio vedere perché la patigina che avete fatto di darmi ancora parla per favore grazie e stavo dicendo poi che avevamo preso cose più essenziali adesso prendo anche gli occhiali gli occhiali che ho preso questa mattina dove cavolo stare la tua storia ok allora grazie adesso vi faccio vedere abbiamo preso un paio di occhiali questi qua che sto guardando adesso sono 2 9 e 90 lo abbiamo presi all'unio euro e aveva l'antica paccheggio quando sono dato a parlare della spesa al bennett per favore più piccola della spesa del bennett ha suonato ho detto vedi se era questa c'era questo che suonava c'era l'antica taccheggio e l'ho dovuto tirare via questo che stava qua e niente allora questi due paio a 9 90 invece c'era un paio anche che costava 9 90 un paio la graditoria era di tre che volevo di tre io vabbè anche queste due 50 ma bambini dai riesco a meno leggeresti e vedere le cose miniatura ne abbiamo preso queste che del 250 come vi ho detto 2 in 1 9 90 10 euro da poi con oltre va benissimo magari poi sono piena ragazzi a meno che questi occhiali saranno dalla vecchia 8 ma va bene tanto anche la metà allora abbiamo preso gli aspetti che mi serviva poi alcuni avanti l'ho pagata allora vediamo un po' la spugna dov'è la spugna scritta non riesco a dire che la spugna ha ecco spugna questa spugna 1 99 poi abbiamo preso come fa sono due due spazzolini spazzolini per i denti perché i miei ne sono già consumati e poi abbiamo preso le lamette che mi servono che devo essere pulita 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 a dire se sono presi perché vediamo se questo piede no qui c'è scritto gillette pro gel barba gilet progetto questo è il gel di barba penso ok questo qua cos'è? è il gel di barba penso che sia questo abbiamo pagato 4,99 che nessuno mette in bagno questo è il gel di barba? si, il gel di barba, posso farmi la barba? la mette come si chiamano questi? big hybrid jackspire aiuti? mi faccio subito veloce ancora qua no si va bene c'è ecco ecco, andami un attimo questi qua sono 3,99 vai ok visto ragazzi come ho detto subito 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 è fatto così poi avevo fatto vedere queste qua le cilette ah rasoia bic quello la ok 3,99 poi poi il gel di barba aspettate eh 5,99 questi qua il gel di barba 5,99 io levo ma scrivi scendi 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 ogni volta poi poi il taglia unghie dove è il taglia unghie? vi faccio vedere il taglia unghie perché non si chiama? come si chiama questa? manicure taglia unghie? 7,55 mots dei amici aspettate il taglia unghie lo faccio vedere dopo mi sembra perchè appena un po' di cose qua va be l'abbè abbiamo preso previously e l'altra a。。。 aspetta ecco 342 e tra i 23 42 tra i denti le due bottiglie di acido avevo detto che erano 2 in tre ore qualcosa a me non sembra perché ha fatto 1 e 1 va allora l'acido di gira profumata e 1 98 questa la 98 e no questo durante anche così cina non c'è la traccia che non la trovo la cosa che 39 15 aspettando se l'ha fatto no 1 e 98 questa la c'è profumata costo 1 98 ma dai ragazzi oggi non riesco a leggere ok il taglia unghie costa 2 e 2 90 2 90 taglia unghie poi abbiamo preso tutto l'entificio 20 109 109 questo 109 spazzolino spazzolino aveva fatto vedere che era 98 centesimi con decina di 34 ha ecco l'hanno fatto meno 0 60 centesimo ecco decina di tre questa c'era una 98 scontato ok poi il deodorante in fase 342 questo è quello che cerco io sotto il mio era così e preso il collettorio dove sta collettorio 159 e la borsa la borsa vediamo la borsa quanto costa la borsa qua ecco 10 centesima ma ha preso qualcosa fa questa quella frutte cos'è questa già se l'aveva presa lì non mi ricordo ecco succo di frutta ecco 1 1 65 ma ragazzi io ho assaggiato è stradolce ma è stradolce questa comunque abbiamo preso due di candigini una profumata e una normale succo stradolce succo stradolce poi collettorio di odorante due spazzolini e due spazzolini il dentifricio il taglia unghie la mette da barba poi l'altra mette da barba e il dopo barba se l'è portato via e la spugna e in più i miei occhiali che questi sono le piappetta l'altra parte come vi ho detto che questo parla che 9 90 e la testa 10 ragazzi è finito tutto allora in totale della spesa che a parte gli occhiali che non sono state detti di troppesi abbiamo speso 36 23 in totale questo è la spesa ragazzi alla prossima della svolta della spesa ciao alla prossima